Saranno 22 i sindaci del Veneto orientale che domani andranno a Roma per chiedere un'accelerazione dei lavori per la realizzazione della terza corsia lungo l'autostrada A4, nel tratto maledetto che va da San Donà a Porto Gruaro, teatro di gravi incidenti, il più delle volte mortali. Quando 22 amministratori decidono di chiedere udienza al capo dello Stato è perché non ne possiamo più. Questa pletora di soggetti rivolgersi al Presidente della Repubblica significa chiedere il suo aiuto perché ci aiuti effettivamente a velocizzare questa vicenda. Ogni mese che trascorre si allunga la lista degli incidenti e purtroppo dei feriti e quindi anche dei morti. L'ultimo stamane, poco dopo le 7, nel tratto compreso tra La Tisana e Porto Gruaro in direzione Venezia. Due tir si sono scontrati, una persona è rimasta gravemente ferita. La proposta, condivisa anche dalla fondazione Tintag Nord-Est, formata da imprese e associazioni di categoria tra Veneto e Friuli, che però vuole sia coinvolto anche il Ministro Salvini, è quella di adottare il cosiddetto metodo Genova. Non possiamo aspettare il 2026 per vedere finita un'opera di 30 km di strada normalissima. È ineccepibile nel 2023, deve finire almeno un anno prima e ci sono i modi per finirla e chiederemo che adottino il sistema del commissariamento del ponte di Genova lavorando tre turni al giorno. Nel frattempo però noi vorremmo anche che si pensassero tutte quelle misure di mitigazione della velocità o tutto quello che può concorrere per aumentare la sicurezza nel tratto, che passi attraverso il potenziamento della polizia stradale che già sta facendo un lavoro egregio, che passi attraverso la presenza di tutor o di altri sistemi perché si possa andare più piano. Grazie.